ciao ragazzi è sabato sera sì sono in campeggio è freddo quindi non sto facendo niente di che ho deciso che vi farò diciamo un piccolo tour del mio campeggio e della mia casa casina dove sto in campeggio allora questa è la mia camera per ve la faccio vedere meglio giro l'incuattratore faccio vedere meglio tutto ora questa è la mia camera vedete la sopra c'è il beauty poi vabbè c'è una tripla poi c'è vabbè ci sono un paio di guscini poi vabbè il sale che noi lo teniamo spesso per tenere lontano gli animali poi un po di giochi e la casetta di sherek la ci si facciamo tipo il mio comodino che in realtà comunque sarebbe una cosa per la televisione per quale mi c'è un frusaglie questi sono i vestiti molto molto carino poi invece avessi riconosce la mia camera soltanto da un basso praticamente tutti i posti di francesco amiche lì poi faccio vedere da questo qui alla cucina cioè meglio questa è la cucina piatti sono tutti lavati questo mini salotto diciamo che qua c'è il condizionatore che va e non va questo invece è la camera dei miei genitori una televisione vecchia poi ci sono gli armadi con la loro roba non mi va di farvela vedere per rispetto loro e poi qua c'è il bagno che lasciate perdere i posti in alto di camera miele devo togliere qua c'è il bagno qua c'è una mini televisione con il decoder perché queste qui vanno a decoder qua ci stanno tutti quanti i nostri arnesi per cucinare tutta roba per la cucina qui poi qua ci stanno questi sono i minestroni che mangio io quando fosse di verdure una scatola qui vabbè qua c'è sotto il pomodoro varie pentole risottola milanese poi in alto invece vabbè lì c'è la stufetta qui c'è una nostra frase che diciamo ci piace molto perché noi in romagna bevamo molto vino qua ci sono tutte ah sì la roba di plastica perché il campeggio noi usiamo anche i piatti comunque come avete visto però diciamo che usiamo anche nella roba di plastica essendo in campeggio lo usiamo solo in campeggio a casa no qua ci sono delle altre degli altri piatti degli altri bicchieri e delle altre pentole sto registrando questo video sabato sera domani penso che vi farò il video della veranda e poi poi diciamo che vi girerò il il video del campeggio che sarà un penso che lo unirò questo oppure no farò tre video separati dai diciamo così questo è proprio incentrato su dove stiamo noi dormire ok poi dopo domani vi farò il video della veranda perché noi abbiamo anche un'altra cucina fuori quindi e insomma parlerò un po anche domani e poi un altro giorno quando sarò qua magari che non andrò a casa vi farò il più o meno verso in agosto così vi farò il video appunto dove faccio vedere le piscine che sono qua gli ristoranti un po al campeggio e anche la spiaggia ah mi sono dimenticata qua ci sta il frigorifero questo è il frigorifero niente noi ci becchiamo un altro video e al prossimo video penso che domani domenica potrebbe poter già pubblicarvi questo video domani e niente ciao 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 ciao